Si corre dal 1977 ogni due anni da soli per 4200 miglia. Si parte dalla Rochelle in Francia e si arriva a Salvador de Bahia in Brasile. Ci vogliono circa 30 giorni per attraversare l'oceano atlantico durante i quali è vietata qualsiasi comunicazione con la Terra. Scelte strategiche e di rotta sono tutte a carico del solitario. È partita domenica la Mini Transat, la celebre regata in solitario a bordo di piccoli scappi lunghi 6 metri e mezzo. Tra le 83 imbarcazioni, suddivise tra prototipi e barche di serie, c'è anche Bologna in Oceano, la barca tutta emiliana del bolognesissimo Sergio Frattaruolo. Per autofinanziarmi, all'inizio è partito così, poi in realtà è più un'iniziativa per gli amici, per i sostenitori o per le persone che hanno scritto attraverso i giornali. Avrò 20 bottiglie in vetro offerte da un'azienda che ci sta aiutando in questo. A metà dell'oceano lascerò questi messaggi in bottiglia. In particolare molti sono scritti da dei bambini di una scuola elementare di Bologna, le Guercino, che mi sostengono. Tutti i giorni guarderanno la mia posizione, le progressioni su loro lavagne interattive. Sono i miei primi fan. Sono otto gli italiani che partecipano alla regata transatlantica. Tra loro una presenza femminile, Susanna Bayer, con alle spalle tre anni di qualifiche in solitaria. Spero che vada solo ad aumentare la percentuale di donne che partecipano a queste regate, perché le regate d'altura sono uno sport che racchiude talmente tanti valori, dalla solidarietà alla forza che ci vuole per mettere insieme i soldi e per partire, per fare questo tipo di regate. Veramente è solo che l'Italia ha solo da guadagnare impegnandosi in questo ambito.